Tempo di rinnovi in casa Pescara in vista della prossima stagione che dovrà per forza di cose essere quella del rilancio dopo un'annata molto deludente. E al netto delle trattative societarie che il presidente Daniele Sebastiani nel caso porterà avanti, per il momento la coppia che ha permesso al Delfino di centrare una salvezza che ad un certo punto del campionato sembrava quasi impossibile sarà presente anche nel futuro. Per Baby Billon infatti dovrebbe arrivare l'annuncio già durante la prossima settimana. Il tecnico si è guadagnato sul campo la possibilità di allestire e guidare una squadra completamente costruita da lui per il torneo che verrà. Chiaramente l'allenatore entrerà nel merito delle scelte del mercato, ma, e siamo alla seconda conferma, troverà Manforte nell'uomo che lo ha voluto in bianco-azzurro, ovvero Giorgio Repetto, il direttore dell'area tecnica. Tornato quando c'è stata la svolta, Zeman Epifani è stato colui che ha fortemente voluto e scelto Billon con il Delfino nel mare in tempesta. Scelta che si è rivelata talmente positiva che il rinnovo di Repetto dopo l'esperienza a Teramo adesso ha i contorni della blindatura per un dirigente in grado di prendere la decisione giusta in un momentaccio. Da lui e da Billon deve ripartire il Pescara per rinnovare la Rosa, ancora incerto se Luca Leone, appetito dallo Spezia, farà ancora parte della dirigenza. Se dovesse partire, come sembra probabile, nonostante ancora abbia un anno di contratto, Sebastiani darà la caccia a Luca Nember, direttore sportivo del Foggia, in grado non solo di allestire un organico capace di centrare con amplissimo margine la salvezza, ma addirittura di valorizzarlo in maniera importante. Secondo il sito specializzato TransferMarkt, infatti all'inizio del campionato, la quotazione economica della Rosa collocava il Foggia, con un valore complessivo di 8,68 milioni di euro al terz'ultimo posto della Serie B, sopra soltanto a Tenana e Venezia, un valore che si è innalzato fino a 9,28 milioni di euro. Insomma, quello di Nember è un profilo che piace, ma tutto dipenderà ovviamente da quello che sarà il destino di Leone. Nel frattempo due tasselli vanno al loro posto, Billon e Repetto, poi sarà la volta dei giocatori. Per il momento anche le partenze sono state bloccate, anche quelle di Brugman, che sembrava praticamente scontata, e quella di Pettinari, che anche ieri, dopo aver ricevuto il premio di miglior bianco-azzurro, ha lasciato più di un'incognita sul proprio futuro. Devo dire che qua a Pescara mi sono trovato benissimo, anche nella mia prima parentesi, dove magari ho giocato un po' di meno, e adesso presto per vedere il futuro, vediamo nei prossimi giorni. Adesso ne dovremo parlare col presidente e di trovare una soluzione. Ci sono tante valutazioni da fare, questa può essere anche una delle tante. Il mese di giugno sarà determinante, poi a metà luglio via il ritiro di Palena per preparare la stagione della riscossa.